Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa. Nel mondo sono milioni le donne che subiscono violenza fisica, economica, psicologica. Oggi più che mai è tempo di agire. Contrastare la violenza è responsabilità di tutti. La violenza non ha scuse. Insieme possiamo fare la differenza. Non restare indifferente. Unisciti alla lotta contro la violenza di genere. Con il tuo aiuto possiamo aiutare davvero chi è in pericolo. Ogni donazione è un passo in avanti per un mondo migliore. Il cambiamento inizia con te. Sosteniamo le vittime e lavoriamo per la loro autonomia. Insieme possiamo costruire un futuro senza violenza. Dona il tuo sostegno chiamando o mandando un sms al numero 45580. Grazie. 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 Grazie.